I finanziari del comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato 327 dosi di cocaina in una proprietà privata nel comune di Floridia. L'attività nasce dalle osservazioni, comprese nei normali servizi di controllo. Nella serata i baschi verdi della compagnia hanno fermato nel corso di un posto di controllo un floridiano che percepisce il reddito di cittadinanza a bordo di una vettura di lusso Porsche Macan di sua proprietà. Il rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante, privo di giustificazione, ma anche il sospetto che l'uomo fosse abitualmente dedito alla commissione di traffici illeciti ha consentito di far scattare la perquisizione domiciliare nell'abitazione del 41enne floridiano. Le circostanze poi hanno portato l'impiego del cane antidroga Aguila dal fiuto infallibile, e così nel corso dell'operazione sono state rinvenute 327 dosi di cocaina per un totale di 120 grammi occultate all'interno di doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore, nonché più di 1000 euro in contanti, nascosti in parte all'interno della cappa della cucina, anche se sottoposti a sequestro perché ritenuti provento dell'attività illecita. Le dosi erano pronte per lo spaccio, contraddistinte da confezioni di diverso colore, rosso e blu, in ragione del quantitativo richiesto dal cliente. Al termine dell'attività di polizia, l'uomo, su disposizione della procura, è stato tratto in arresto e tradotto nella casa circonda le aree di Cavadonna.